In periodo di sessione gli studenti universitari hanno bisogno di spazi universitari per cercare di trovare appunto le modalità per superare la stessa sessione. E' per questo che è nata la protesta degli studenti di Lincoln e ci hanno passato un paio d'ore davanti allo studio, una delle biblioteche dell'Unisalento, la più grande, che resta tristemente chiusa anche in questa fase 3. Si sono organizzati con tavolini e libri in una splendida giornata di sole per manifestare così la mancanza di spazi e la propria proposta studiare a cielo aperto. Sicuramente in questo periodo pandemico l'utilizzo degli spazi universitari al chiuso, visto comunque anche il numero di posti che prevedevano, è un po' complesso. Per questo abbiamo richiesto la repertura degli spazi universitari con nuove postazioni all'aperto che quindi permettano la dilazione, quindi la separazione, e nessun rischio a livello di salute per gli studenti che volessero entrare e studiare in sicurezza. Il Rettore Pollice nell'ultimo senato accademico pochi giorni fa ha assicurato che l'Unisalento provvederà a trovare spazi studio comuni. La battaglia di link degli studenti verte sulla riapertura delle università in un periodo nel quale si torna alla vita di tutti i giorni, o quasi, e ha la possibilità di fare lauree in presenza già da luglio. Per ora c'è l'ok per le lauree magistrali, ma per i ragazzi questo non è ancora abbastanza. La riapertura è fondamentale per il superamento e per il miglioramento della situazione, quindi anche a livello psicologico e sociologico. Quindi sicuramente puntiamo ad una riapertura graduale. Abbiamo anche apportato una richiesta rispetto alle lauree triennali, quindi di lauree triennali in presenza, visto appunto la sicurezza che ne prescinde dal fatto che le magistrali siano fatte in questa modalità.